Nel primavera vi ha stretto la speranza, cammina di manuda in lontananza, fiumi di acciaio e groglie più profonde del grande mare tui tui siamo alle onde. La sola trevette che più vicine al cielo restano in tante custodi del mistero, cade il corpo, lo spirito si eleva, chiusa in un fiore la verità si sceglie. Cosa rimane di quel che fu creato, di quel respiro che dal buon Dio fu dato, restano i fiori che parlano ai poeti, santi ai partigiani e ai coscienti, e a tutti quelli che in questa sinfonia restano fuori dal col di fobia. La specie umana più pericolosa, con la sua mano distrugge senza forza. La specie umana più pericolosa, in un'altra cose che ha PA with SANTTO Noi c'è circa, e avanti a DIA ha la bellezza, in mezzo di un virus contramina la fresca, restano i fiori che parlano ai poeti, i fiori jakie ci si faà ausi e FIORI , ma potrà fare cosciente natamente restituire l'anima presa in un vento il sangio della vita si spara e portogate lo spirito si è regla è primavera, il viale è silenzioso i fiori parlano e tutto intorno tacio e la città è come addormentata e finalmente respira un po' di pace come si è fatto da parte della ora e non la calma di tutti i nostri mali come il suo farlo ed essere ben verso non bastonata di tutto non è il suo non bastonata di tutto